Sì, è una volta buona per il discorso di lavoratore, quella che era di Mirkul, è una volta buona per Napoli per il mezzogiorno, perché qui emerge un caso di successo che io penso che debba diventare un nuovo, innanzitutto perché è un'impresa che opererà nel settore della più alta innovazione, quella della tecnologia green, è un'impresa del contorno, sotto quello della tecnologia che produrrà e che servirà a rendere più autonoma l'Italia dalla dipendenza di altri continenti, sotto il punto di vista del fatto che in questo modo viene sventita una reazione secondo la quale le imprese poi finivano in mani di altre regioni o di altri continenti, anche qui si può fare di più e di meno, il fatto che sia un'impresa del territorio che dovrà indirizzarla verso la tecnologia green e riassumente a tutti gli occupati va portata a un modello di scuola.